I cittadini di Sassano hanno sottoscritto una petizione per richiedere la rapida pulizia del fiume Tanagro. Dopo le isondazioni degli anni precedenti e preoccupati per le condizioni in cui oggi varsa il letto del corso d'acqua, stracolmo di detriti e di una vegetazione folta che ne impedisce il normale deflusso, gli abitanti della città sollecitano interventi di messa in sicurezza da parte di chi ha competenza sul fiume. E in questi giorni si sono attivati con una raccolta firme e un documento indirizzato al presidente della regione Campania ai sindaci di Sala Consilina e Sassano, al dirigente di settore del Genio Civile e al presidente del Consorzio di Bonifica. Nel documento viene soprattutto evidenziato lo stato di totale abbandono del fiume Tanagro che attraversa l'intero territorio del Vallo di Diano e che nei periodi di forte pioggia a causa di un'insufficiente manutenzione ordinaria annuale costituisce un pericolo per la pubblica e privata incolumità soprattutto durante la stagione invernale. Sul problema è intervenuto ancora una volta Donato Pica che, già con precedenti interrogazioni, aveva segnalato l'urgenza di provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario per garantire il regolare scorrimento delle acque del Tanagro. Oggi il consigliere regionale invita nuovamente la giunta del presidente Caldoro a disporre un immediato accertamento tecnico in loco e a individuare una dotazione economica sufficiente per i primi e più imminenti lavori attraverso il Genio Civile di Salerno. Non si può perdere altro tempo, dichiara Pica, e il Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano dispone di un'idonea progettazione esecutiva pari a circa 10 milioni che, conclude il consigliere regionale, potrebbe essere inserita nella programmazione per l'utilizzo dei fondi europei 2007-2014 ancora disponibili.